Ma, così, mediocre, studiavo abbastanza volentieri, ma senza pretendere di essere super brava. Mi bastava di prendere i sei o sette. Sapevo che i miei facevano sacrifici per farmi studiare, quindi studiavo e dovevo passare. Quando mi sono iscritta non avevo nessuna idea di cosa avrei fatto, anzi mi iscrissi a lettere e ci stessi un'ora sola, perché avevo molta facilità per scrivere e i miei pensavano che forse avrei fatto la giornalista. Dopo un'ora di lezione di De Robertis, che era un famoso professore, scriveva sempre sulla terza pagina del Corriere della Sera, mi venne una gran barba e capì che avevo sbagliato strada. Mi ricordai che la materia mi piaceva di più, era la fisica, e mi iscrissi a fisica. E a fisica mi sono trovata sempre molto bene. Ho studiato molto più volentieri che al liceo. Grazie. 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 Grazie.